Gianni Rosati non è più il direttore sportivo della Pistoiese. A comunicarlo è il club arancione attraverso un breve comunicato stampa dove si annuncia l'interruzione del rapporto di collaborazione con il ADS marchigiano. Una notizia che scuote un po' l'ambiente arancione, ma che probabilmente per gli addetti ai lavori poteva essere anche nell'area, soprattutto alla luce dell'ultima vicenda, quella che sembrerebbe riportare in maglia arancione l'ex capitano Andrea Caponi. Il giocatore ha rescisso pochi giorni fa con il Livorno e domenica in occasione della partita al Melani contro il Progresso era in tribuna seduto vicino a Maurizio De Simone. Mentre non era presente il direttore Rosati, ma come da lui stesso dichiarato, era fuori Pistoia per lavoro per alcuni futuri movimenti di mercato arancioni. Resta il fatto che il comunicato della società arancione non riporta le motivazioni precise di questo divorzio, ma stando alle dichiarazioni del DS Rosati raggiunto da noi telefonicamente, c'erano diverse divergenze con la società e il probabile ritorno di Caponi in squadra è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Per me, ha sottolineato Rosati, non c'era bisogno di altri innesti a centro campo e il suo inserimento non lo ritenevo necessario. Anche per la questione quote si sarebbe dovuto stravolgere la formazione e per me non c'era nessun valido motivo per farlo, ha detto. Opinione che ha visto andargli contro anche gran parte della tifoseria, rimasta legata a Caponi per quanto fatto lo scorso anno in arancione e anche per la personalità del giocatore che si è sempre posto come leader dentro e fuori dal campo. Tutto questo a pochi giorni dall'arrivo del nuovo tecnico della Pistoiese Manolo Manoni, voluto fortemente proprio da Rosati per sostituire l'esonerato Consonni. Questa quindi la posizione chiara e ferma dell'ormai ex direttore sportivo arancione che ricordiamo era arrivato a Pistoia nel gennaio 2022 con la nuova proprietà, quella della tedesco Stefan Lehmann.